buongiorno questa è la rassegna stampa in breve di video 33 oggi venerdì 11 novembre il cielo sarà coperto su tutto il territorio provinciale con possibilità di deboli precipitazioni anche a carattere nevoso con soglia della neve tra i 500 e gli 800 metri andiamo a vedere le aperture quotidiani locali che troviamo in edicola alto adige soldi a bolzano giunta divisa l'assessore svp walcher contro il sindaco non si lamenti poi negli interni nella fotonotizia migranti in viaggio camminando sui binari il nuovo fenomeno fra bolzano e in spruc e ancora dagli interni bramante a un passo dalla nomina nuovo capo in procura passiamo al corriere dell'alto adige giustizia c'è il piano il trasferimento costerà 20 milioni palazzo widman è pronto norma però ancora ferma poi nella fotonotizia l'incontro all'università e del presidente confindustria boccia che sprona gli studenti creatività un valore lugli patto scuola lavoro e poi anche qui nel taglio basso caramaschi chiedo equità non la luna risorse baur appoggia il primo cittadino mentre rush anche merano viene penalizzata passiamo alla cronaca in lingua tedesca con il quotidiano dolomitten che apre con un fatto di cronaca internazionale un affermato ad in spruc un siriano un soldato siriano colpevole di diversi omicidi in guerra e poi nella fotonotizia la cronaca internazionale con il neo presidente degli stati uniti trump che stringe la mano al presidente uscente barack obama negli incontro di ieri alla casa bianca andiamo ora alla sutiroler wirtschaft zeitung il settimanale di carattere economico qui si parla di digitale in primo piano le nuove vie del digitale e un settore sempre più in via di sviluppo e ora andiamo al quotidiano takest zeitung anche qui in qualche modo ci si aggancia al mondo del digitale con i nuovi investimenti in rete sono sempre più gli alto attesini che investono e anche con questi soldi virtuali però c'è da stare molto attenti e prestare attenzione per non subire truffe o brutte sorprese bene con questo ho terminato vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata